Musica 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 ... ... ... ... Ossigeni di cui avranno bisogno di evitare il vero macchio. Ogh! Gli albergo. Fa 170, 300 milioni. L'alberge, 8 gesti e 12. I paleri sono diversi. La loro superficie comunque è intorno ai 70-80 medicali. 50 volte quella del corpo umano. Ed è con le respirazioni che... Ma che stai reggary? Falvi che cosa vuoi dare... Ma che stai reggary? Grazie a tutti